Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 15 maggio e partiamo dalla fine, ovvero come sapete ogni buon analista deve, in caso veda qualche cosa che non gli torna nell'immediato rivedere tutto con calma e capire che cosa sta succedendo se effettivamente ciò che si aspettava verrà poi appunto portato a termine e verrà confermato dal mercato o meno ecco perché vi faccio vedere quella che è la centratura ciclica sull'inverso che ora finalmente mi convince sull'indice ci siamo, assolutamente siamo a 38 giorni e potremmo aver chiuso il mensile, il tp2 da qui mentre invece per quanto riguarda l'inverso avevo bisogno di capire bene come muovermi per cui vi presento il primo tp2 inverso da 24 barre piene e vi presento il secondo tp2 inverso da 24 quindi da qui è partito un nuovo tp2 per ora possiamo dire soltanto 2 mensile per pochi giorni ma tra poco potremmo dire che sarà partito un tp3 inverso il nuovo trimestrale inverso che proverà a spingerci più forte possibile verso il basso l'indice nella prima parte e poi potrebbe iniziare a vincolarsi appunto al rialzo e riportarci sopra i massimi a 11.235 ma la giornata di oggi che è giornata tra l'altro di scadenze tecniche quindi attenzione a fare trading non c'è solo la regola del venerdì ma anche la regola del è ancora più rischioso del normale fare trading ci dirà che cosa vogliamo fare soprattutto se vogliamo iniziare a portare in chiusura il secondo t inverso quindi sono già dimenticato un po' di i ma perché ho fatto tutto di corsa e già l'ora si avvicina all'apertura del mercato fatta questa dovuta premessa ritorniamo sul giornaliero qui siamo arrivati all'ottavo t-3 chiuso qui ripartiti a scheggia fatto una velocità ci ha messo un attimo ad arrivare qua sopra sta partendo un nuovo t-3 per cui bisogna soltanto fare attenzione a quando entrare su questo t-3 anche perché in questo momento potremmo aprire 93 punti sopra la chiusura a 323 e quindi aprire in zona 10.413 ovvero casualmente potrebbe essere vicino al livello della media mobile a 50 periodi ok per cui attenzione questo è ciò che ci importa di più se io faccio partire da qui il mio inverso e siamo già arrivati a 24 candele dato che il DAX è molto veloce possiamo arrivare anche tranquillamente a 44 ma nella realtà dei fatti magari dopo l'apertura può far partire il quinto t-3 inverso e quindi può fare un anello verso il basso di un t-5 per poi rivincolarsi verso l'alto e continuare a salire escludiamo sempre il discorso eventuali raccodi e poi ripartenze lo possono fare perché oggi è giorno di scadenza e glielo perdoneremo e cercheremo di farlo intanto noi operiamo dopo le 10 della mattina le 10.01 ci mettiamo a fare i primi trading ieri lo short è andato molto bene il discorso e comunque tanta attenzione se non avete abbastanza esperienza oggi rimanete fuori il mercato perché ripeto le scadenze durante le scadenze possono fare delle porcherie e vediamo se appunto a parte eventuali raccodi che potrebbero esserci perché saremmo tra un t-3 e un t-3 quindi tra un anzi scusate tra un t-2 mensile e un altro t-2 mensile di indice ma a parte appunto quello da lunedì probabilmente vedremo una più forte spinta verso l'alto per cui oggi o rimanete fuori o se decidete di operare attenzione perché deve ancora chiudere l'inverso con un top quindi e poi subito dopo deve fare almeno un anello un t-5 da un'ora e un quarto un po' più breve della tempistica su fullsimi per poi vedere se appunto in caso si vincolasse a a ribasso o l'inverso si può valutare appunto con un altro chip long per la salita mi raccomando fate anche attenzione all'overnight stesse considerazioni da fare per fullsimi la situazione è praticamente molto simile quindi non torno su questo genere di spiegazioni perché è tutto uguale vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata la mia sarà così perché ho già deciso che sia così arrivederci e vi ringrazio per l'ascolto